Il nostro percorso è una cantante, una persona che ha fatto la storia, una tra le prime a lavorare nel profondo della propria tradizione, questa è di famiglia Sami e l'unica, quello che ci accomuna è questo cerchio magico che è il tamburo. Insieme a lei ci sono due bravissimi musicisti e sono Aiutemi Giorgio con i nuovi, alla chitarra Roger Ludvigsen, alla batteria Alexander Gustopulos. Ed è davvero con grande onore, spero abbiate tanto il piacere di ascoltarla, con noi stasera Mari Boine. E' davvero con grande onore, spero abbiate tanto il piacere di ascoltarla. E' davvero con grande onore, spero abbiate tanto il piacere di ascoltarla. E' davvero con grande onore, spero abbiate tanto il piacere di ascoltarla. E' davvero con grande onore, spero abbiate tanto il piacere di ascoltarla. A presto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.